click! Ben ritrovati i miei cari avventori dell'Ugiona Bar Calcio questo sarà un video veramente intenso quindi i miei cari avventori vi invito a seguirlo con estrema attenzione di che cosa parlo? Allora vi dico ieri sera ero alla costante ricerca avevo proprio bisogno, ok? Non mi bastava più il whisky, il bourbon whisky, il gin, il brandy, il cognac avevo bisogno di un'iniezione direttamente nelle vene di parole di saputo, ok? Avevo bisogno, mi sono chiesto ho urlato nella mia stanza saputo dove cazzo sei, saputo che cosa cazzo fai e soprattutto saputo che cosa dici allora mi sono preso il computer di stizza sotto le mani, ok? E ho digitato su google saputo Joe saputo cosa dice, proprio così, Joe saputo cosa dice ho cliccato invio e ho sfogliato un po' di pagine e sapete che cosa ho trovato di interessante? ho trovato una cosa interessante e in questo video adesso lo andiamo a vedere oltre al fatto che di interessante ho trovato un articolo un articolo uscito su un noto quotidiano digitale vicino ai colori del Bulagna è uscito poche, meno di 14 ore fa, ok? che a mio avviso è un articolo che è stato scritto da uno che è bresco, ma che più bresco non si possa e andiamo a vedere anche quello prima però di iniziare, ok? prima di iniziare perché oggi sono veramente carico e fatemelo dire anche un po' incazzato, ok? fatemelo dire ti invito mio caro avventore pertanto lasciare un click iscriviti allusione a bar calcio a condividere a condividere illusione a bar calcio e tutti i suoi video, ok? ai tuoi amici di Federo su Blu digli basta andare a leggere questi articoli tremebondi di gente veramente ubriaca che deve solo riempire delle pagine sul web ti do io la verità di chi parla senza peli sulla lingua di quello che è veramente è il momento del Bulagna e non infarcito con i se, con i ma ma con i forse si poteva, si potrebbe, si dovrebbe si parla del presente, ok? qui la fortuna e la sfortuna non esiste si parla di ciò che è quindi condividi questo canale e lascia sempre un mi piacino ai video del Luigiona Bar Calcio ok? allora, torniamo a noi ho detto, ho cercato se saputo ultimamente ha detto qualcosa e cosa ho trovato? ho trovato che nell'occasione del BFC Academy Webinar che è stato il 19 maggio del 2020 quindi non tanto tempo fa, ok? 19 maggio 2020 vuol dire che la pandemia già era in corso e già si poteva prevedere ampiamente che avremmo avuto una seconda ondata perché ne parlavano tutti e non venitemi a dire che Joy Saputo non l'avrebbe previsto ok? quindi 19 maggio 2020 vi cito testualmente che cosa dice Joy Saputo sono parole di Joy Saputo tra virgolettate non mi invento niente dice fare meglio ogni giorno l'obiettivo è ora di finire nella top 10 della serie A poi dice nella top 6 e andare in Europa non c'è più paura della retrocessione a fine anno non voglio più sentire parlare di salvezza quella è una fase chiusa per me nonostante le difficoltà dovute alla pandemia il Bologna si dimostra una società che punta in alto chiuse virgolette queste sono le parole di Joy Saputo ora cosa facciamo i miei cari eventori osserviamo un minuto di silenzio ok? in memoria delle parole di Joy Saputo o le andiamo ad analizzare dice testualmente che l'obiettivo è ora intende l'obiettivo del campionato che stava per iniziare e intendo questo dice che l'obiettivo di quest'anno del Bologna è di finire nelle prime 10 posizioni e poi aggiunge che l'obiettivo del prossimo anno era quello di finire nelle prime 6 non mi sono inventato niente lo dice Joy Saputo 19 maggio 2020 e parla anche della pandemia che dice che nonostante le difficoltà della pandemia il Bologna ha questi obiettivi ok? e che non vuole aggiunge oltretutto sentire più parlare di retrocessione di spettro della retrocessione perché appartiene a un Bologna passato ok? quindi prendiamo per buono le parole di Joy Saputo e a questo punto dobbiamo dire che la dirigenza senza sé e senza ma sono stati dei somari a questo punto perché se queste sono le parole di Joy Saputo e lo sono qualcuno mi deve venire a spiegare perché la dirigenza in questo ultimo mercato non ha consegnato la punta centrale che serviva a Mijailovic ed è andata a vendere Mattia Bani che di ruolo faceva il difensore centrale che serviva a Mijailovic e oltretutto oltre a doverlo tenere ne doveva prendere un altro e invece ha venduto Bani squadre come la Spezia che Vincenzo Italiano ai microfoni dell'ultima partita ha detto io e la società abbiamo voluto espressamente una rosa ampia perché sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato quest'anno per via appunto della pandemia e di tutto il resto abbiamo voluto una rosa ampia il Bologna questo non l'ha fatto il Bologna questo non l'ha fatto e non l'ha fatto per quale motivo per risparmiare non l'ha fatto per risparmiare adesso a gennaio andremo a spendere molti più soldi di quelli che non avremmo speso quest'estate vi ricordo il mio detto chi più spende meno spende bene poi ho trovato quello che vi dicevo un articolo che è stato pubblicato nelle ultime ore ok io penso che sia adesso penso che si tratti di una giovane penna sinceramente che quindi molto probabilmente non sappia bene neanche lui che cosa stia scrivendo bisognerebbe sapere quanto realmente questo ragazzo sappia di Bologna e quanto invece è un ragazzo che ha preso degli articoli sparsi per il web e ha fatto un collage e ha messo dentro una castroneria di pensieri perché guarda non vi leggo l'intero articolo vi leggo l'ultime quattro righe perché mi hanno fatto letteralmente veramente disperare per come l'ha scritto vi leggo testualmente che cosa recita questo articolo mi dispiace adesso non faccio il nome perché non lo voglio non lo voglio diciamo sotterrare però però porca vacca non si possono scrivere delle cose del genere sentite che cosa scrive dice è naturale che si possa stoccere il naso alla luce dei soli sei punti dopo sette giornate ma i risultati andrebbero pesati al letto degli attenuanti generate dalle contingenze calcistiche ed extra calcistiche il comprensibile malcontento momentaneo non faccia perdere di vista il disegno più ampio ovvero la bontà del lavoro svolto di una società che sta cercando di crescere in un progetto a lungo termine durante un periodo storico in cui è in bilico persino domani io io leggo queste righe e non ridisco i non ridisco cioè si potrebbe si potrebbe andare a prendere parole scelte ma il punto più bello è i risultati andrebbero pesati al netto delle attenuanti generate dalle contingenze calcistiche ed extra calcistiche come se tali contingenze gli altri club tra l'altro non le avessero come se la pandemia e tutto il resto coinvolga solo il Bologna l'ho capito che c'è per tutti e quindi essendosi per tutti a zero a tutto e non c'entra un cazzo l'ho capito che non c'entra un cazzo anzi vi dirò di più visto che mi che mi sollecitano questi articoli vi dirò di più visto e considerato che il Bologna è una delle poche società sembra meno da un da un altro articolo di Zazzaroni che anche lì non so quanto sia attendibile che dice che il Bologna è una delle poche società che riesce a garantire gli stipendi ai propri calciatori ma a maggior ragione allora è preoccupante questa situazione a maggior ragione preoccupante ci si deve incazzare perché le tali contingenze extra calcistiche riguardano più gli altri e meno noi e nonostante tutto siamo noi che siamo nella merda io 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 veramente non capisco poi dice il comprensibile malcontento momentaneo non faccia perdere di vista il disegno più ampio ovvero la bontà del lavoro svolto di una società che sta cercando di crescere in un progetto a lungo termine a lungo termine ma quanto lungo è questo progetto e soprattutto dice che sta svolgendo un buon lavoro sta svolgendo un buon lavoro ma aspetta attenzione ma dove sta svolgendo un buon lavoro stiamo scherzando abbiamo visto insieme su questo canale tutti i soldi di Joy Saputo come sono stati spesi per quanto riguarda la costruzione della rosa sono stati spesi male sono stati spesi male abbiamo preso degli scarponi ok e laddove abbiamo preso anche dei buoni giocatori vedi Skowolsen e vedi Dominguez sono giocatori che non sono funzionali a Mijajlovic che lo si capisca e questo vuol dire che sono stati spesi male se è stata fatta una squadra con i piedi e non si fa così la squadra ci tornerò comunque adesso mi devo scuolare una bottiglia veramente di Jäger perché questa volta non sfugo da tale da tale mio prossimo futuro perché veramente c'è da star male a leggere certe cose e voglio risottolineare quello che ha detto Saputo Saputo il 12 di maggio 19 di maggio 2020 ha detto che vuole il Bologna nella top 10 e il prossimo anno nella top 6 che non si deve più parlare di retrocessione che per lui un capitolo chiuso ok adesso la società so che tra oggi e domani si dovranno riunire penso gli uomini dirigenziali e intendo Bigon Sabatini Fenucci Divaglio Mijajlovic e so che devono parlare di questo inizio di campionato che nessuno si aspettava perché devono progettare il prossimo futuro io penso le prossime mosse a gennaio per cercare di evitare ok quello che sembra che altrimenti possa essere ossia essere invischiati nella zona retrocessione con tanti saluti da parte di Joy Saputo in Canada ok bene miei cari inventori attivate campanaccio pastorale fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate ok va bene e noi ci sentiamo alle prossime chiacchierabà e noi ci sentiamo a